Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, buonasera, ben arrivati su Bridge on Light, aspettiamo un pochino che un po' di persone si connettono, prima di iniziare vediamo un po' oggi chi c'è in diretta, chi si collega, oggi una gran bella giornata, sicuramente molti ne starete approfittando, cosa buona e giusta, bene, vediamo un po' chi è invece con noi su Bridge on Light, se potete mandate magari un cenno, un saluto, perché oggi lavoreremo in un modo un po' diverso, nel senso che sarei grato di rispondere alle vostre domande, come sempre ci ritroviamo con l'appuntamento con la Sacra Fiamma Viola dell'amato San Germen e con l'energia proprio di San Germen, allora vediamo un po' chi sono, chi c'è presente, se volete potete inviare, eccoci, buonasera, buonasera cara, buonasera, Katia San carissima, ti invio un saluto, ben arrivata, nostra collaboratrice preziosissima, cioè collaboratrice di Bridge on Light, ecco che ci ha aiutato tutti quanti, bene bene, allora quest'oggi vi chiedo di fare anche delle domande, così cercherò di rispondere alle persone che iniziano a essere interessate alla Sacra Fiamma Viola, la sua energia, a che cosa serve, perché va invocata e quando va usata. Allora, questa energia sacra è un'energia di trasmutazione, trasmutazione di tutte le energie, situazioni non positive in positivo. Buonasera Barbara, buonasera Barbara a rappoggio. Quando invocare la Sacra Fiamma Viola? Quando magari personalmente abbiamo uno stato non... buonasera carissimo, buonasera. Quando abbiamo uno stato non perfettamente equilibrato, possiamo ecco metterci in silenzio, connetterci, chiedere col pensiero, con un sentimento puro, con un sentimento perfetto, con un sentimento perfetto intendo con molto chiaro, con un intento che parte realmente dal profondo del cuore, affinché questa energia arrivi dentro di noi, attraverso di noi, attraverso i nostri chakra e investino tutto il nostro essere. In questo modo noi iniziamo a fare una pulizia proprio del nostro campo energetico, del nostro campo aurico, delle nostre emozioni non propriamente positive, perché tanto siamo tutti esseri umani, siamo soggetti o per un motivo o per un altro comunque ad arrabbiarci, a prendercela, a giudicare, insomma, ad avere anche un attimo di rancore. Ecco, questo fa parte dell'essere umano. Però gli insegnamenti della nuova era, dell'amato Saint Germain, ma anche e soprattutto ci sono stati dati da Gesù il Cristo, ma da Madre Celeste, da tutti i maestri scesi, da tutti i grandi illuminati che sono sono stati incarnati su questo pianeta e in ogni luogo del mondo, ci ricordano proprio che la chiave della vita è l'amore, l'amore per noi stessi e l'amore per gli altri. Quando viene a mancare questa componente fondamentale, che è l'amore, che vuol dire anche il rispetto, l'amore e il rispetto per noi stessi, per i principi morali ed etici e per gli altri, allora l'energia perfetta e divina viene a essere intaccata e trasmutata in qualcos'altro, qualcos'altro che non è amore. Questo qualcos'altro che non è amore crea un'azione con un susseguirsi poi di eventi concatenanti ed ecco allora che si crea tutta una serie energetica che investe tante tante cose, tante persone in modo dissonante, non in linea con il principio divino. E volenti o nolenti alle volte ne veniamo attraversati, percorsi investiti, ne diveniamo partecipi di questo flusso non corretto. Allora in quel caso possiamo immediatamente invocare la Sacra Fiamma Viola nel silenzio più assoluto, nel profondo del nostro cuore, affinché possiamo avere anche il giusto discernimento. Il giusto discernimento lo troviamo quando entriamo in uno stato di pace e di serenità, perché se siamo offuscati da altri sentimenti che non sono sentimenti di luce, di amore, faremo sempre difficoltà e a vedere la situazione, ma soprattutto a prendere le decisioni giuste. Per cui ci sarà una serie di azioni in seguito al pensiero discordante, non lucido e non perfetto, che continuerà ad alimentare un modo di fare, di agire, di pensare, che non è salutare energeticamente parlando, ma anche proprio poi dopo nel nostro quotidiano. Allora, attraverso il richiamo della Sacra Fiamma Viola, noi riusciamo innanzitutto a ripristinare il nostro centro, la nostra centratura, ad avere la giusta visione di ciò che ci circonda, ma soprattutto possiamo poi, una volta pronti, indirizzare il nostro pensiero proprio in queste situazioni che sono state create in modo non coerente con la legge divina. Per cui è molto importante ricordarci che abbiamo sia questo grande aiuto della Sacra Fiamma Viola, ma che abbiamo tanti, tanti aiuti e tanti, tanti mezzi che possiamo immediatamente contattare per ripristinare la pace e l'armonia in noi e attorno a noi, quando è che non riusciamo a fare questo? Non riusciamo quando siamo offuscati dal nostro ego, quando anteponiamo sempre io, 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 quando vogliamo avere ragione a tutti i costi. Magari ponendoci il quesito posso avere sì ragione, però fammi vedere le cose anche da altre prospettive. Riusciamo ad avere una visione più ampia, ad accettare altre verità. Per cui non ci incapponiamo in un qualcosa che poi va a alimentare il nostro orgoglio. E come sappiamo, l'orgoglio poi non porta mai da nessuna parte se non a far del male a se stessi, a far del male alle persone care, soprattutto le persone che ci circondano, perché l'orgoglio è una grande forma di egoismo e l'egoismo è la chiave sempre di tutti i mali. Ma siamo tutti esseri umani, incapiamo tutti quanti in determinati errori, ma la bellezza di questi tempi è che riceviamo tanti tanti messaggi che ci riportano tutti in una frequenza di pace, di serenità, di ascolto. Per cui estranearsi un attimo, meditare e ascoltare quanto è bella la pace nel cuore, nel silenzio, nel proprio silenzio, allontanando qualsiasi forma di pensiero, qualsiasi forma di preoccupazione, istantaneamente in questo stato riusciamo ad avere quel vuoto, quella serenità, quella lucidità che ci permette poi di connetterci ancora di più alle energie divine, ai raggi divini e in particolar modo alla Sacra Fiamma Viola dell'Amato San Germain. La Sacra Fiamma Viola che è poi uno strumento divino, io dico dell'Amato San Germain perché l'avatar dell'universo che appunto in questo momento San Germain è colui che è predisposto proprio alla distribuzione di questa energia divina. Poi con tutti gli arcangeli che sono Zacchiel, Santa Metista, tutte le legioni della Fiamma Viola e tanti 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 esseri che proprio distribuiscono questa energia. Penso a madre Quan Yin, la madre della misericordia, alla madre Mercedes. Sono tanti nomi nuovi ma che si conosceranno sempre di più lungo il corso del tempo che passa perché si sta manifestando anche una grandissima realtà non conosciuta che è quella di proprio di venire a contatto con una miriade di esseri che non conoscevamo ma che adesso invece si stanno conoscendo. E vi dirò di più, ne arriveranno tanti tanti, ne arriveranno tanti alla conoscenza di tutti ma non perché non ci siano, perché non sono ancora conosciuti. Nella realtà, in questa nostra realtà, anche se noi ancora non riusciamo a percepire tutte le entità, dobbiamo sapere che ci sono esseri multidimensionali che stanno partecipando all'evoluzione del pianeta Terra e dell'umanità, ci sono esseri da altri pianeti, altre galassie che sono intorno a noi. Noi siamo pienamente circondati da una miriade di esseri di luce che stanno partecipando, ora da tempo parteciperanno, al salto quantico del pianeta Terra, qualcosa che non si è visto mai in nessun tempo da quando la Terra è in vita. Per cui cerchiamo di avere ben impresso questo concetto, il fatto che ci siamo incarnati per aiutare proprio l'umanità a progredire, a fare questo salto. È chiaro che il primo salto lo dobbiamo fare noi, questo è il primo passo. Il primo passo è proprio quello di essere luce per gli altri, di essere amore incondizionato, di essere amore allo stato puro. Amore incondizionato non vuol dire non fare delle scelte nel fare del bene. Guardate bene che è un concetto che va molto integrato, molto molto bene. Questo è un concetto molto importante che le persone devono comprendere. Che cosa vuol dire l'amore incondizionato? L'amore incondizionato vuol dire anche saper discernere dove dare la propria energia di amore e dove non sprecarla. Questo è molto molto importante. Non che si è cattivi nel non dare l'amore a tutti quanti e a scegliere a chi darlo, ma avere il discernimento di dove indirizzare le proprie energie. Perché se le andiamo a indirizzare in un qualcosa che sappiamo già che non ha frutto, quella è una mancanza di rispetto per noi stessi. È una mancanza d'amore per noi stessi. Ok? Quello è alimentare l'ego. Va bene? Questo è un concetto molto importante. Credo che tutti quanti lo sappiate, ma per chi non ci ha pensato mi auguro che sia un punto di riflessione. Allora vi chiedo se volete porre delle domande. Sono contento di poter rispondervi per quello che possa essere il mio sapere, insomma. Ecco. Allora intanto Valentina Piroda un abbraccione gigante. La Vale, un super abbraccio cara. Un saluto anche a te Maria Concetta. Buonasera caro Luca Occelli, che ci porti tanta tanta luce e un gran bel sorriso tutte le volte che ti ascolto. Ciao Lorena, ciao Claudio, Katia Sam abbiamo salutato e risalutiamo. Allora vediamo Rosa e buonasera Nina. Bene, allora visto che ancora non avete domande, non siete partecipanti attivissime con me, facciamo così, iniziamo a fare un bellissimo decreto per quanto riguarda l'invocazione della Sacra Fiamma Violetta. Lo facciamo con tanta serenità, con tanta pace nel cuore. Ciao Simona, ciao Giusy. Allora facciamo amore del fuoco violetto della liberazione. Allora ricordate che la parola ha potere. Se la parola poi usata consapevolmente aumenta il suo potere, il suo potere di attrazione delle energie che noi stiamo inviando attraverso le corde vocali, attraverso il nostro pensiero e se ripetuto tre volte un decreto, una richiesta, questo assume un potere ancora superiore. Possiamo ripeterlo 3, 6, 9, più lo si ripete, più diventa sempre più potente. Ok? Allora, se siete pronte, care, perché vedo siete tutte donne, ripetete pure con me. Il vittorioso fuoco della liberazione ora. Risana i nostri corpi, armonizza e stabilizza i nostri sentimenti. Illumina la nostra coscienza, ci libera, ci eleva alla piena maestria su tutte le apparenze umane, desideri e sentimenti, e mantiene ciò eternamente sostenuto. Accettiamo questo come già realizzato. Nel più santo nome di Dio, io sono. Grazie Padre. Allora, abbiamo fatto un bel decreto a riguardo del fuoco violetto, della liberazione. Questo è un modo di invocare la sacra fiamma viola, affinché vengano armonizzati e stabilizzati i nostri sentimenti, affinché la nostra coscienza sia illuminata, affinché il nostro essere possa essere liberato da tutte le frequenze che non sono più in linea con le tematiche attuali, con l'energia attuale, non le tematiche, con l'energia attuale, perché l'energia attuale è un'energia potentissima che sta investendo il pianeta Terra. Se solo riuscissimo a meditare con la consapevolezza che l'energia è molto molto più potente quella che sta aggiungendo, con questa consapevolezza noi riusciamo ad assorbire ancora di più questa potentissima energia che sta investendo il pianeta Terra e l'essere umano. Per cui vi suggerisco, quando avete un po' di tempo, di trovare uno spazio in silenzio, magari al verde, nel verde, in mezzo alla natura e cercare proprio di integrare attraverso le mani, attraverso la visualizzazione del terzo occhio, tutte queste energie potentissime che stanno proprio alimentando tutti noi esseri umani, alimentando tutto il pianeta Terra. Proprio perché vi è questa grande rivoluzione, perché vi è questa rinascita in atto, perché vi è questa resurrezione in atto. Tutto questo naturalmente sta avvenendo mentre gli ultimi graffi del potere occulto si sta manifestando con tutto quello che sta succedendo nel mondo, in Italia lo vediamo, tutta questa barzelletta di questa situazione che hanno inventato. Ma anche questo è necessario, ogni cosa è necessaria di quello che sta avvenendo, per questo è anche scritto ed è stato detto non giudicate. Seppur ci ha fatto tanta rabbia, ci fa rabbia per tutte le conseguenze degli avvenimenti che si stanno verificando, ma anche questo è un periodo in cui era necessario che avvenisse, che avvenisse proprio fuori, a galla, tutti gli aspetti più nascosti, occulti del sistema che ci ha governato fino adesso a livello mondiale. Solo in questo modo potevano venire fuori alla velocità della luce. Per cui quello che dobbiamo fare, anche se non è facile, mi rendo conto, anche se ci può prendere la rabbia per tutte le situazioni, dobbiamo inviare, invece rimanere fermi nella frequenza dell'amore, della pace, della comprensione, del non giudizio e inviare tanto, 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 tanto amore. Vedete quanto è bella l'energia anche della manifestazione, delle manifestazioni che si stanno svolgendo un po' in tutte le piazze del mondo. La parola che si dice, sapete qual è? È libertà, libertà, libertà. Pensate che l'energia centrale proprio della Sacra Fiamma Viola è la libertà e il perdono. Queste sono le chiavi dell'energia della Sacra Fiamma Violetta. E pensate che in tutto il mondo non è che la gente scende in piazza, nonostante è arrabbiatissima giustamente, dice guerra, guerra. No, la gente dice libertà, libertà, libertà. Vi è proprio una necessità ancora più profonda della normale libertà democratica che abbiamo già conquistato. Ma vi è una necessità di liberazione interiore, di libertà di coscienza. C'è qualcosa all'interno dell'essere umano e dell'essenza divina che vuole esplodere, che vuole vivere secondo proprio la pienezza della frequenza del Signore che è all'interno di noi. Vedete, chi è che segue le leggi divine nel pianeta Terra? la natura. La natura ascolta ed esegue proprio la volontà del Signore e svolge tutto nella maniera più armoniosa e perfetta possibile. Gli unici che ancora non lo fanno, che hanno, voglio dire, un'evoluzione più elevata, è ancora l'essere umano. Ma manca poco così a tutta l'umanità. Manca poco così, perché ci stiamo avviando veramente a riscoprire quali sono i veri valori dell'essere umano, di che cosa vuol dire essere un essere umano, di che cosa vuol dire vivere secondo il senso più profondo della vita e come viverlo. E lo riscopriremo in questo modo, allontanando da noi veramente ogni forma di egoismo ed entrando nella condivisione di tutto ciò che abbiamo. Abbiamo un pezzo di pane? Bene, lo dividiamo con i fratelli, perché quel poco diventi tanto. Dobbiamo entrare nella condivisione. Dobbiamo ricordarci che siamo noi perché ci sono gli altri. Dobbiamo ricordare questo. Io mi sento vivo perché gli altri sono vivi. Io mi sento bene perché gli altri stanno bene. Io mi sento in pace perché gli altri stanno in pace. E affinché gli altri possano stare bene, in pace, in serenità e in tranquillità, io devo distribuire la mia pace, il mio amore, la mia serenità, il mio sorriso. Sapete quanto è importante un sorriso? Un sorriso può cambiare il corso della giornata a una persona. Può cambiare completamente l'energia di quella persona, soprattutto se questo sorriso è così, nasce dal cuore. Il piacere proprio di essere sorriso, di trasmettere il sorriso. Dopo si trasmette in automatico un'energia meravigliosa e questa energia contagiosa poi magari viene ritrasmessa ad altri. Mi auguro che a casa stiate tutti sorridendo come sto sorridendo io e che vi stia... sì c'è un gatto, Pinda, purtroppo ho chiuso la porta, vuole uscire, scusate l'intramezzo, ma penso che molti di voi abbiano un gattino a casa, io ce ne ho tre. Bene, bene, bene. Allora, vediamo un attimino Claudio, che cosa ci scrive? Le tue parole riguardo il dare l'amore, l'amore a tutti, mi risuonano molto. Sono una persona empatica e questo comporta anche il fatto che io sia sempre disposta ad aiutare gli altri. Andiamo un po'. Mi sono accorto, vediamo un po' che ci dice, questo carissimo. Allora, questo mi stanca molto e risucchia tutte le mie energie. Il problema è che non riesco a dire di no quando qualcuno mi chiede il mio aiuto. Comincio però a pensare che tutta questa propensione ad aiutare non è proprio una bella cosa, perché mi sono accorto che sto solo alimentando solo il mio ego, che si nutre del fatto di sentirsi dire che sono un bravo ragazzo. Come posso fare a cambiare questa condizione? Hai posto molto bene la questione. Non si possono aiutare tutti quanti, purtroppo. hai posto, hai centrato proprio il tema della questione, perché in questo modo tu stai, come hai detto, hai dato anche la risposta carissimo, stai solo alimentando il tuo ego. Ecco, comincio però a pensare che tutta questa propensione ad aiutare non è proprio una bella cosa, perché mi sono accorto che sto alimentando solo il mio ego, che si nutre del fatto di sentirsi dire che sono un bravo ragazzo. Bene, guarda, hai avuto la risposta e te la sei data da solo, carissimo. Per cui medita su questo e vedrai che saprai quando aiutare e chi aiutare. Bene, bene. Agnese, cara, un abbraccione. Pina, carissima, il tuo sorriso è contagioso e confortante. Sono contento, sono contento di poter aglietare la vostra, questi momenti, insomma. Valentina ci fa sorridere. Buonasera, buonasera a tutti. Sì, allora, bene, bene. C'è il gatto che è rimasto un attimo. Muore, su. Allora, bene, bene. Molto bene. Allora, a casa, io ho visto che ci siamo, siamo qui. Abbiamo parlato dell'amore dell'umanità, che dobbiamo essere propensi proprio ad entrare nel concetto di essere realmente uno e come cercare di farlo. Un altro modo con cui possiamo aiutare l'umanità è utilizzare la nostra energia, una parte della nostra energia, del nostro tempo, attraverso la preghiera del cuore, proprio affinché l'umanità possa evolvere più velocemente. Cioè, anche dedicare dieci minuti, cinque minuti, un minuto solo, ma quelle parole profonde dal cuore, affinché ci sia questo sviluppo importante del pianeta, è una cosa molto lodevole. Ricordate, siamo così come vengono gli esseri da tutti gli universi ad aiutarci, anche noi dobbiamo aiutare. Vedete com'è importante la catena, l'aiuto, parte dall'alto, dalla sorgente suprema, no? E investe tutti quanti. E anche noi dobbiamo aiutare. Ed è una cosa meravigliosa, perché questa è proprio la volontà dell'alto di cieli. Non siete mai soli, non siamo mai soli, ci dicono. Questo è meraviglioso, è meraviglioso, è molto importante poi aiutare le persone a non sentirsi mai soli. Questo è un qualcosa di molto, molto importante. Bene. Allora, io vi proporrei il karma della massa. Allora, tutti insieme dedichiamo un po' del nostro tempo. dedichiamo un po' del nostro tempo per fare questa piccola preghierina decreto, che dice in questo modo. Allora, facciamo un'invocazione prima, per cui nel nome dell'onnipotente presenza di Dio, io sono. Per cui io faccio appello alla mia scintilla divina che è io sono, che è specchio della sorgente creatrice con tutto il suo potere. Ed è il fuoco creativo che pulsa in ogni cuore umano. Amato Arcangelo Zacchiel, amata Santa Metista, tutti gli angeli e le legioni dell'ordine di Zacchiel e tutti gli esseri che servono nel settimo raggio. Ripetiamo tre volte adesso. Io sono, io sono, io sono, invocando il pieno momentum cosmico di purificazione e trasmutazione, attraverso il fuoco violetto dell'amore liberatore affinché cancelli, cancelli, cancelli tutto il karma massivo delle razze esistenti sulla terra dal principio dei tempi e comandando, comandando, comandando che la sua azione vibratoria sia elevata a quella della fiamma dell'ascensione. Così lo decretiamo e lo accettiamo come già realizzato nel più santo nome di Dio, io sono, grazie Padre. Grazie per aver partecipato a questo decreto per l'umanità. Grazie del vostro tempo. Bene, allora, parliamo un attimino dell'amato Maestro Asceso San Germen. Chi è un maestro asceso? Un maestro asceso è comunque un essere che ha attraversato tantissime incarnazioni fino a che incarnazione dopo incarnazione è riuscito a raggiungere quello stato di illuminazione che viene più che altro raffigurato con la figura dell'amato Gautama, il Buddha, l'illuminato. Però l'illuminazione è stato, l'illuminazione è uno stato che hanno raggiunto tutti i nostri santi magari anche tante tante persone non conosciute e così via. Un maestro asceso, una volta raggiunto questo livello di coscienza dell'essere così elevato, così espanso che è divenuto un'unica cosa con la sorgente ha un'espansione di coscienza multidimensionale che cosa vuol dire questo? Vuol dire che allarga il suo stato di coscienza a un livello talmente ampio in tutte le dimensioni che è arrivato ed è giunto davvero vicinissimo alla fonte allora in quello stato in quello stato vibrazionale così elevato prende dei meriti perché quei meriti li ha acquisiti attraverso ciò che per gli esseri umani normali possono essere delle grandissime rinunce a tutto ciò che è il mondo materiale per cui vuol dire che c'è stata una fusione talmente potente con lo spirito che sono divenuti spirito in azione ecco perché l'amato Gesù diceva sempre non sono io che compio le cose ma è il padre mio che le fa va bene? lui era conscio che la potenza spirituale del nostro creatore agiva attraverso di lui e tutto era possibile, nulla impossibile questo è avvenuto a tutti coloro che poi sono divenuti maestri ascesi in questo momento diciamo i maestri ascesi più rappresentativi più conosciuti sono i maestri che rappresentano i sette raggi ora per comprendere i sette raggi dobbiamo comprenderne anche la virtù e anche che cosa sono i sette raggi allora se noi prendiamo un prisma diciamo allora i sette raggi sono la traduzione della luce la luce è ciò che ci dà la vita è ciò che permette la vita se noi prendiamo un prisma e lo mettiamo facciamo così guardiamo i raggi del sole che cosa vediamo? vediamo sette raggi per cui ci si presenta la luce nella sua un po' nella sua essenza l'abbiamo un po' più chiara allora il primo raggio che noi vediamo il raggio blu il raggio blu è rappresentato dal maestro Elmoria il maestro Elmoria è un maestro molto fermo perché è il maestro del principio il principio di ogni cosa divina il raggio blu racchiude le virtù del coraggio della fede della speranza il maestro Elmoria del raggio blu è coadiuvato dall'arcangelo Michele per cui è un raggio molto forte molto decisivo è molto incisivo è un raggio molto molto bello come lo sono tutti gli altri il secondo raggio è il raggio giallo dell'illuminazione della saggezza del discernimento per cui quando magari necessitiamo di avere idee di avere chiarezza a livello del terzo occhio noi possiamo visualizzare proprio se abbiamo quella necessità il sole se non c'è il sole lo visualizziamo e visualizziamo un raggio di sole che arriva al centro del terzo occhio in questo modo noi chiediamo proprio chiediamo il discernimento e la chiarezza della nostra mente allora facciamo questo esercizio di visualizzazione perché sono tutti importanti i nostri chakra ma questo chakra è fondamentale perché ci permette di avere la chiarezza delle situazioni perché se non abbiamo chiarezza pensiamo agiamo e parliamo in modo totalmente errato e creiamo tutta una situazione di condizioni e di eventi poi comunque un pochino che creano molti problemi allora noi possiamo pulire il terzo occhio usando anche degli oli essenziali ne possiamo usare diversi con diverse essenze mi piace usare la lavanda l'essenza di lavanda è molto è molto buona per la pulizia del terzo occhio ma anche del settimo chakra quando abbiamo tanti 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 pensieri a me viene più facile perché non ho i capelli ma va bene uguale bene il maestro che coordina il secondo raggio che è il raggio giallo dell'illuminazione è il maestro lanto si chiama il maestro lanto questa frequenza comunque è retta dal maestro Gautama il Buddha va bene poi abbiamo il terzo raggio che è un altro raggio che per forza di cose ci investe sempre che è il raggio dell'amore dell'amore incondizionato i maestri sono due il maestro è Paolo il Veneziano e Lady Rowena questo raggio bellissimo ed è il raggio rosa il quarto raggio per cui veniamo a conoscenza di un altro maestro il maestro Serafin Bey il suo tempio eterico è a Luxor in Egitto e lui si occupa della sacra fiamma bianca la fiamma della resurrezione quando abbiamo bisogno anche di una pulizia immediata noi chiamiamo proprio anche la sacra fiamma bianca la invochiamo affinché questa intervenga immediatamente per far risorgere tutte le vibrazioni più elevate che sono state assopite e ripulire come proprio una cascata d'acqua sia il nostro essere il nostro corpo che tutte le situazioni che vogliamo ripulire il quinto raggio è un raggio bellissimo anch'esso è il raggio verde il raggio verde è il raggio che racchiude le qualità della guarigione e dell'abbondanza il maestro maestro fantastico ed è il maestro Ilarion che io adoro come adoro tutti gli altri maestri seppur amo in modo particolare San Germain che mi ha dato un grande aiuto e che mi aiuta sempre tantissimo a crescere spiritualmente ad accompagnarmi su questo in questo tempo l'arcangelo è l'arcangelo Raffaele per cui per chi si occupa di guarigioni reiki pranoterapia preghiera a distanza lavori a distanza in particolar modo suggerisco anche di cercare di contattare e chiedere l'aiuto dell'arcangelo Raffaele e del maestro Ilarion è anche il raggio in cui vi è lo spirito della fortuna per chi non lo sapesse bene poi abbiamo il sesto raggio che è il raggio della misericordia della carità è il raggio della fratellanza è naturalmente il raggio che è retto dall'amato maestro Gesù il Cristo e poi abbiamo il settimo raggio che è il raggio della fiamma violetta proprio che racchiude l'essenza e la somma di tutte le qualità di tutti gli altri raggi ecco perché è un raggio particolarmente potentissimo ecco perché è un raggio che insieme agli altri va invocato magari continuamente anche quando non c'è magari situazioni particolarissime che bisogna affrontare perché non è che dobbiamo nutrirci di un'energia divina così meravigliosa così alta come l'energia dei sette raggi solo quando vi sono particolari particolari situazioni da risolvere diciamo che è come un qualcosa di benefico che è piacevole da da richiamare nel nostro quotidiano per il nostro spirito bene 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 allora vediamo un attimino se ci sono domande aspettiamo un attimino se qualcuno vuole fare delle domande a riguardo delle tematiche che stiamo affrontando vediamo un po' se qualcuno ha voglia di fare qualche domanda io sono in linea buonasera Pina buonasera Enza buonasera Tamara carissima un abbraccione forte 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 anche a te buonasera Rosa vediamo un pochettino se ci sono domande se non ci sono domande invece faremo una bella meditazione con la chiave tonale dell'amato Saint Germain che ci innalzerà le vibrazioni del nostro spirito vediamo un po' eccoci qua chiave tonale la sto cercando non l'avevo preparata Saint Germain eccoci qui bene 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 carissimi siamo vicini mancano una decina di minuti e faremo un ultimo un ultimo decreto e poi Gloria cara Gloria un abbraccione dove sei stata fino adesso ben arrivata Gloria una bravissima meravigliosissima lettrice dei registri acascici per cui ve la suggerisco perché è veramente molto pura di cuore allora vediamo un pochettino se nel frattempo ecco come mantenere alte le vibrazioni quando intorno è tutto buio grazie adesso ci arriviamo allora innanzitutto rivolgere immediatamente il pensiero a Dio è relegargli questa apparenza si dice in metafisica di buio e in questo modo noi ci scolleghiamo automaticamente dal pensiero che tutto è buio e ciò che era buio apparentemente diviene luce in questo modo in questo modo la nostra vibrazione cambia istantaneamente è un atto di fede incredibile so che non è facile non è facile per nessuno perché comunque poi siamo sempre esseri umani ma ricordandoci di questo concetto possiamo molto velocemente ristabilire la nostra giusta visione che è la visione divina la visione divina non non contempla il fatto che ci sia tutta questa energia di buio spero di essere di essere stato chiaro nell'esprimere il il concetto ecco che di rispondere alla domanda di 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 giusi allora bene 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 ci siamo quasi ma non trovo meditazione con la fiamma viola vediamo un po' se questo vediamo un pochettino allora vediamo un po' se c'è qualche altra domanda oh sono stato chiarissimo sono molto molto contento giusi questo mi fa molto molto piacere vediamo un pochettino se ci sono domande a gloria sta sta facendo un aperitivo con tina bravissima anche tina mentre ci guardano molto molto bene allora vediamo un po' ecco forse l'ho trovata bene allora io direi di fare una breve meditazione con la sacra fiamma viola prima di lasciarci e di poter proseguire la nostro il nostro sabato Enza Minervino sei molto bravo grazie tesoro ma non credo di essere così bravo cerco di trasmettere quel poco di conoscenza che ho di farlo con il cuore soprattutto e credo che davvero quando si parla con il cuore questo arriva nel profondo del cuore e quando arriva nel profondo del cuore questo rimane è un seme che non si può sradicare soprattutto soprattutto quando si ascolta con il cuore questo è molto molto importante è importante imparare quando riusciamo ad ascoltare con il cuore e quando invece la nostra mente ci impedisce di ricevere questa vibrazione questo è molto importante che noi dobbiamo riuscire a fare questo discernimento perché se riusciamo a fare questo allenamento ci ritroveremo sempre più nella condizione di riconoscere ciò che è giusto è ciò che non è giusto da cuore a cuore e questo è un concetto personalmente che io trovo meraviglioso poi insomma credo che non per tutti sono sempre sempre uguali i concetti la visione insomma ma possiamo anche dire se siamo fuori dal giudizio che vanno bene tutti perché comunque il tutto fa parte Alessandra buonasera carissima ben arrivata sei alla fine sei arrivata giusto per la meditazione giusto giusto per la meditazione carissima come stai stai bene Paolo ha un cuore grande buono ti voglio bene ti voglio bene insomma questi semi quello che si sente ciò che si sente nel profondo ognuno di noi deve cercare di condividerlo il più possibile perché poi ciò che si sente nel profondo è qualcosa di tanto 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 bello ma come si fa a non condividere le cose belle profonde che si hanno nell'anima è impossibile è impossibile perché esse sfociano da sole e se arrivano arrivano agli altri anche magari solo attraverso gli occhi solo attraverso un piccolo gesto comunque arrivano comunque ci dà la possibilità di poter riconoscere comunque l'anima delle persone attraverso anche le piccole cose non c'è bisogno delle cose grandissime appariscenti no non c'è bisogno bastano veramente piccole semplici cose date e fatte con il cuore ecco questa è una cosa molto molto importante allora adesso io vi chiedo di fare dei respiri profondi tre e precisamente con gli occhi chiusi svuotiamo la mente rilassiamoci liberiamo tutto il nostro essere ispirare profondamente ispirare respirare tre volte profondamente liberare tutto il nostro essere lasciare andare tutte le tensioni iniziare a entrare rimanere stare in uno stato di pace interiore di grazia visualizzando proprio la bellezza del nostro essere richiamiamo alla nostra consapevolezza della nostra mente quanto bello essere nella nostra pace nella nostra serenità nel nostro equilibrio alimentiamo questo perché alimentando questo alimentiamo davvero l'essenza stessa di ciò che noi siamo e ciò che noi siamo è amore alimentiamo l'amore che abbiamo nel profondo del nostro essere alimentiamo la gioia nel nostro cuore lo possiamo fare anche visualizzando le cose belle che abbiamo vissuto nella vita le grandi emozioni i ricordi belli che hanno arricchito il nostro cuore le emozioni del presente allenando il nostro pensiero a essere solo costantemente nel positivo e negli aspetti positivi e nelle cose positive che noi viviamo che noi sentiamo e che noi trasmettiamo e rimaniamo nella pace mentre piano piano la sacra fiamma viola inizia ad avvolgerci avvolge il nostro capo il nostro essere lasciamo che questa energia arricchisca i nostri elettroni li carichi ci porti tanta pace tanto amore tanta leggerezza e allontani ogni forma di pesantezza ecco liberiamo e trasmutiamo nel miglior modo possibile attraverso l'uso della sacra fiamma viola il nostro campo energetico lasciamo che si espanda sempre più tutta la dolcezza e l'amore che abbiamo all'interno di noi attraverso la nostra energia lasciamo che si espanda lasciamo che si diffonda lasciamo che giunga nel più ampio spazio possibile lasciamo che questa energia si allarghi e cresca di decine di metri centinaia di metri e di qualche chilometro fino ad investire tutta la nostra città ecco inviamo tanto amore nel luogo in cui viviamo inviamo tanto amore in tutta la nostra regione ma soprattutto inviamo tanto amore alle persone che noi amiamo e inviamo tanto amore anche alle persone che pensiamo che non ci vogliono bene ecco in questo modo noi sciogliamo i nodi energetici che si sono creati e liberiamo l'energia in noi e attorno a noi io vi ringrazio di essere stati con me ringrazio piano piano quando volete dolcemente fate un bel respiro e rientrate in uno stato di consapevolezza ordinaria con serenità riacquistate uno stato di coscienza regolare bene vi ringrazio tantissimo e sono contento di aver condiviso con voi il mio sentire di questo momento e vi faccio bene piccolo volevo farvi vedere eccolo il gattino bianco che miagola e scappa sempre bene allora che la pace l'amore la serenità il discernimento siano con voi ci vediamo alla prossima grazie Katia San grazie Brigio Light grazie a tutti un saluto da Paolo Tola pranoterapeuta centrolistico San Germen di Ancona buon sabato e buona domenica grazie a tutti grazie a tutti